Viva Vittorio Emanuele, Cavour e Garibaldi! Un altro giorno, trovandosi a pranzo con esponenti del governo e personaggi di varie tendenze politiche, ascoltò i brindisi inneggianti alla libertà a Vittorio Emanuele, a Cavour e a Garibaldi. Invitato poi a parlare anche lui, alzò il bicchiere e senza scomporsi esclamò sorridendo Viva Vittorio Emanuele, Cavour e Garibaldi, sotto la bandiera del Papa, affinché possano salvarsi l'anima! Tutti l'applaudirono, ammirando il tatto fine del santo e la franca professione delle sue idee, ed uno di loro gridò, Evviva Don Bosco! Egli non vuole proprio la morte di nessuno! Desiderium peccatorum peribit! Il 6 agosto 1876, inaugurandosi la ferrovia Torino-Cirie-Lanzo, il prefetto di Torino aveva chiesto di servire il rinfresco alle autorità nel collegio che Don Bosco aveva in quest'ultimo paese. Vi parteciparono i ministri Agostino De Pretis, Giovanni Nicotera, Giuseppe Zanardelli, con molti deputati, e vi presenziò anche Don Bosco. Servito il rinfresco, andarono tutti a sedere in giardino e si portò il discorso sui frequenti viaggi del santo a Roma e sulle sue visite in Vaticano. Quindi passarono a qualche amichevole scherzo. Ad un certo punto il deputato Ercole esclamò Don Bosco legge nei cuori, sentiamo un po' da lui chi è più peccatore, Nicotera o Zanardelli? Tutti risero a questa uscita amena e il santo rispose veramente per poter dare una risposta giusta bisognerebbe che venissero qui a fare gli esercizi spirituali e allora dopo una confessione generale potrei dare un giudizio sul loro interno. Ma siccome Ercole insisteva, Nicotera lo interruppe dicendo Oh, perché vuoi mettere me come termine di paragone? Domanda invece a Don Bosco se tu sei più peccatore degli altri. Ed egli Non ho voglia di convertirmi io, c'è tempo! Oh sì, soggiunse Nicotera Non sai che sta scritto nei salmi Desideri un peccatorum peribit? Bene, bravissimo, ripeterono tutti Ed un altro continuò Mi dica Don Bosco, è la crede che noi ci salveremo? Eh, io lo spero, rispose il santo La misericordia di Dio è tanto grande Ma noi non abbiamo voglia di convertirci tanto presto Il che vuol dire che desiderano continuare E poi se si sentiranno Sì, così, per l'appunto E allora, concluso il santo Si avverrà ciò che ha detto quel signore poco fa Desideri un peccatorum peribit Sì, così, per l'appunto Sì, così, per l'appunto